Vittoria sì, ma non basta. Il Teramo batte di misura la Fidelissandria nella terza uscita del precampionato, ma contestazione a Campitelli a parte sono le dichiarazioni di Asta al termine della gara a prendersi da sole il proscenio. L'allenatore chiede subito dei rinforzi, così la squadra è ancora incompleta in tutte le zone del campo, dice. Sul terreno di gioco il tecnico Biancorosso invece non può contare su Speranza e Tulli alle prese con piccoli problemi fisici e allora concede una chance al giovane Fagioli che in coppia con Fratangelo compone la coppia baby alle spalle di Foggia. Dietro è Altobelli a prendere il posto del capitano Biancorosso insieme a Caidi. Tra i pali va Lewandowski con calore in panchina. Pugliesi che si fanno vedere al sesto con la punizione alta di Matera, ancora la formazione di Loseto al ventunesimo, va vicino al gol col sinistro liftato di Bottalico che per questione di centimetri non trova l'incrocio dei pali. Il Teramo però trova la rete che sblocca il risultato dopo neppure un minuto. De Grazia sfonda in zona centrale, resiste al ritorno della difesa della Fidelis e serve a Foggia un pallone che la punta spedisce lì dove Mauro Antonio non può proprio arrivare. La reazione della squadra di Loseto però non si fa attendere. Altri 60 secondi è il travestione di Parisic, pesca il colpo di testa di Lattanzio che si infrange sulla traversa. Altra occasione per il diavolo al trentatresimo, ancora un break di un De Grazia incontenibile. Serve nel corridoio Foggia che prova l'Euro goal da 35 metri, provando a scavalcare Mauro Antonio ma peccando nella mera. Ancora Teramo al minuto 42. L'azione parte da sinistra con Fagiole e si sviluppa fino al fronte opposto con Fratangelo che serve l'inserimento di Ilari. Conclusione centrale, respinta da Mauro Antonio. Nell'intervallo Asta lascia negli spogliatoi proprio Fratangelo per Paolucci avanzando De Grazia. E al 57esimo la sponda aerea di Caidi preme la conclusione proprio di Paolucci che va a raccogliere l'assist del compagno di squadra. Ma l'ex Taranto angola troppo, una conclusione decisamente non impossibile. Il secondo tempo però si gioca a ritmi decisamente più blandi. I cambi dall'una e dall'altra parte frammentano il gioco. E sugli spalti c'è anche la contestazione di alcuni ultras biancorossi nei confronti del presidente Campidelli. Le ruggini del post-Avora dunque non sono affatto accantonate. E lo scontro tra il massimo dirigente e l'ala più intransigente della tifoseria continua. Dunque vittoria di misura per il diavolo. Ma le dichiarazioni di Antonino Asta al 91esimo sono destinate a riempire i prossimi giorni. Il tecnico si aspetta rinforzi da giorni. E al termine della terza Michevoli torna a chiedere a gran voce uno o due nuovi elementi già la prossima settimana. Magari in tempo utile per il primo impegno ufficiale della stagione. E sì perché il Teramo il 6 agosto sarà impegnato in Coppa Italia. Affronterà la fermana sul neutro di Fano nel triangolare che comprende anche il Racing Fondi. Curiosità, proprio quella fermana che in preparazione a Rivisondoli ha potuto assistere alla prima parte dell'amichevole del diavolo. Se pensiamo il primo tempo, un'età media clamorosa nel 2099-1997 abbiamo retto contro l'Andrea, che non dimentichiamo squadra importante. Quindi se io fossi in voi è stata una grandissima giornata oggi. Però piccoli passi vuol dire che mi sa che qui devo fare anche io un passo indietro a pensare che noi ci dobbiamo salvare, signori. Lo sapete, lo sanno tutti, dalla società ha sottoscritto. Quindi questo è il nostro obiettivo, arrivare a salvarci, quindi mettere in campo tutto quello che abbiamo. Sono contento, i ragazzi stanno dando l'anima di più, però non posso nascondere che ci manca qualcosa, perché dare l'anima è una cosa. Poi si gioca a calcio e ci vuole un po' di qualità. Manca cosa? Manca tanto, manca tanto in tante zone del campo. Quindi va benissimo, la società lo sa, davanti, mezzo al campo e dietro. Quindi con tutta serenità, io sono già in clima partita, sono già in clima campionato, quindi io voglio sempre ottenere il massimo. No, ma la società mi ha detto che piano piano mi garantirà, ci garantiremo insieme, perché per entrambi dobbiamo fare bene e di portare a casa qualche giocatore utile alla causa. Non vuol dire che abbia un nome importante, ma che ha voglia di portare in alto questi colori più che mai, perché io ho tanta voglia, determinazione, quindi voglio giocatori che diano tutto. Se poi in più hanno qualità, e comunque la qualità viene fuori, perché anche oggi in certi giocatori mi è piaciuta, ha tanto di guadagnato. Bacio Terracino, ad esempio? Ma è uno di quei giocatori che non lo scopro io, bravo nell'uno contro uno, sa fare l'esterno di destra e sinistra, l'emmenenza sottopunta. Abbiamo bisogno di quei giocatori che puntano l'avversario, che creano superità numerica e lui può essere uno di quelli. Grazie. 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 Grazie.